Le notizie del TG Ora. Il nucleo di polizia tributaria di Napoli ha eseguito un ulteriore ingente sequestro patrimoniale dei profitti illeciti accumulati negli anni attraverso la continuata perpetrazione di gravi reati ambientali dal gruppo imprenditoriale riconducibile ai fratelli Pellini di Acerra. Lo scorso 14 febbraio il reparto aveva già dato esecuzione a un cospicuo sequestro patrimoniale per un valore di circa 200 milioni di euro nei confronti di Giovanni, Salvatore e Cuono Pellini, recentemente condannati in via definitiva per il reato di disastro ambientale e in carcere tra Rieti e Santa Maria Capovettere. Ulteriori elementi informativi acquisiti hanno condotto oggi la polizia giudiziaria all'individuazione di una società fiduciaria con sede nel centro di Milano presso la quale era stato acceso dai fratelli Pellini un mandato fiduciario la cui esistenza è stata dissimulata mediante fittizia e intestazione alle rispettive mogli. Pertanto anche questa cassaforte di famiglia con un consistente ammontare di circa 2,2 milioni di euro di denaro contante e titoli di Stato è stata ora sottoposta a sequestro patrimoniale. I carabinieri della fessore di Caserta unitamente a quelli del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno tratto in salvo una 53enne di Caserta che a seguito di un litigio per motivi sentimentali con il proprio marito si era allontanata a bordo della sua autovettura e aveva inviato al coniuge un messaggio video in cui minacciava di suicidarsi ingerendo il contenuto di due confezioni di un forte medicinale. I militari dell'arma allertati dall'uomo sono riusciti a localizzare l'autovettura in via Nicolini a Caserta e hanno quindi soccorso la donna trovata ancora in vita nonostante avesse già ingerito il farmaco. La stessa a seguito dell'immediato intervento dei sanitari del 118 è stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Caserta dove è stata ricoverata in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Il segretario generale della conferenza episcopale italiana Nunzio Galatino sembrerebbe il candidato più accreditato a prendere il posto di Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli dal 2006 pronto ad andare in pensione per raggiunti limiti di età il prossimo 2 giugno al compimento dei 75 anni. Salvo d'eroche che al momento appaiono improbabili, entro quella data il cardinale dovrà presentare le sue dimissioni e Sepe non ne fa neanche un gran mistero. Nel corso dell'ultima conferenza episcopale campana infatti ha lasciato intendere i confratelli di essere pronto a lasciare. Sono un semi-rottamato, ha dichiarato, sto per andare in pensione. Fermati al porto di Forio sull'isola d'Istia, lei incinta al settimo mese e lui con un piccolo precedente per furto. Due giovani pusher sono stati sorpresi nella storiata di ieri dai carabinieri della stazione di Forio direttamente sul molo dove erano appena sbarcati dall'alescafo partito da Napoli. Il 21enne, residente a Forio, è stato tratto in arresto e in flagranza di reato, mentre la 20enne è stata denunciata a piede libero perché incinta. E' proprio sulla gravidanza di lei che i due avevano scommesso per eludere ogni controllo e passare inosservati con la droga acquistata a Napoli. 100 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, questa è la sostanza sequestrata dai carabinieri in Borghese che avevano già in precedenza seguito da vicino le mosse dei due giovani pusher. E si intensificano le verifiche igienico-sanitarie dei NAS negli esercizi commerciali della provincia di Napoli. Lo scopo è prevenire anche sotto l'aspetto amministrativo violazioni che possano recare danno alla salute pubblica. L'ultimo significativo sopralluogo è avvenuto in un noto supermercato del Corso Campano di Giuliano dove si è proceduto al sequestro amministrativo di un deposito usato per lo stoccaggio degli alimenti e della sua cella frigo. La struttura era utilizzata senza autorizzazione e del risultato priva di requisiti previsti dalla legge. Sequestrati anche 50 kg di alimenti, la carne, vegetali e latticini, tutti privi di documentazione utile e la loro tracciabilità. E' tragedia ieri sera sulla linea ferroviaria Battipaio-Salerno. Un uomo di 64 anni, originario di Baronissi, è stato travolto e ucciso da un treno in corsa. Il macchinista che condiceva il convoglio non ha fatto in tempo a fermare il treno. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118, gli agenti della Polfer di Battipaglia che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo e avviare le indagini per capire se si tratta di incidente o di eventuale suicidio. E con questo per il momento è tutto. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento al prossimo TG1.